Cala l'export in provincia, nonostante gli alti tassi inflattivi che hanno caratterizzato l'ultimo periodo, il gruppo dati e ricerche della CGL di Lucca evidenzia una flessione nei valori correnti che segnano un meno 2,4% rispetto al semestre precedente. La stasi del mercato non riguarda tutti i settori merceologici, ma interessa in particolare due comparti significativi per l'economia del territorio. Il cartario, che con 727 milioni di euro dopo la performance positiva del secondo semestre 2022, registra un calo vicino al 10%, e la meccanica per cartiere, che con 377 milioni di euro, segna una variazione negativa del 27,7%. Si tratta di due settori estremamente importanti per la nostra provincia, direi vitali, nei quali si è registrata una flessione. È da capire se è un rimbalzo tecnico dovuto alle buone performance dei periodi precedenti, o se si tratta davvero in qualche modo dell'apertura di una nuova fase in cui alla crescita e ampliamento segue invece una flessione della produzione. Ovviamente con quello che ciò può comportare in termini anche di ricadute sul territorio, occupazionale e quant'altro. In calo anche i comparti gomma e materie plastiche, quello delle apparecchiature elettriche e non elettriche di uso domestico, leggera flessione per il comparto estrazione e lavorazione del marmo, discorso a parte per la cantieristica, che con 503 milioni di euro si colloca in seconda posizione, cresce del 27,5% sul semestre precedente. La farmaceutica, sia pure con importi assai inferiori, è l'unico tra i settori presi in esame e in crescita negli ultimi due semestri. In ripresa, dopo un calo nel precedente, troviamo anche alimentari e tabacco, calzature e abbigliamento e metallurgia.